Con non solo Anima.tv c'è Avical. La rabbia. Cosa c'è sotto la rabbia? Perché è così diffusa? Innanzitutto è importante il riconoscimento che è molto diffusa. E non è un passo facile. Non è un passo facile nel senso che questo riconoscimento, il riconoscimento che io anch'io sento la rabbia, la rende personale. E nella maggior parte dei casi non è una cosa che vogliamo fare. Nel senso che abbiamo ricevuto un condizionamento che dice che la rabbia è cattiva, non va espressa, va controllata. Però poi la realtà è che a forza di reprimere, comprimere, controllare, viene fuori in maniera assolutamente inconscia, inconsapevole e distruttiva. Allora, il primo passo è quello di riconoscere che io ho la mia rabbia, indipendentemente dal fatto che gli altri la stimolino, la punzecchino oppure no. È una cosa che mi porto appresso, che viene fuori quando punzecchiato e stimolato oppure quando bisogna discaricare. Allora, quest'operazione di rimpossessarsi di qualcosa che inizialmente sembra negativo è necessario. Poi si tratta anche di capire che cos'è la rabbia e cosa c'è dietro. Allora, se io faccio i conti con la mia rabbia, non evitandola, ma come qualcosa che ho e tolgo di mezzo il giudizio rispetto alla rabbia, quello che posso trovare nel tempo è che sotto la rabbia esiste qualcosa di molto più forte, molto più grosso che l'aggressività. L'aggressività non è né buona né cattiva. L'aggressività è una risorsa che noi come animali abbiamo e che serve a svolgere tutta quanto una serie di funzioni che hanno a che fare con la sopravvivenza, per cui cacciare, procurarmi il cibo, trovare un compagno sessuale e anche difendere la mia vita. Allora, l'aggressività non ha una carica di violenza, è la rabbia che siccome distorce l'aggressività e ci aggiunge un particolare giudizio, un particolare valore, distorce una qualità, una risorsa naturale dell'individuo e la trasforma in qualcosa contro l'altro. Se no, l'aggressività è come una specie di lago di potenzialità che serve fondamentalmente a proteggere me stesso e le persone che amo. Avere un contatto con questa aggressività è fondamentale, perché se io non conosco questa mia capacità, non avrò mai una sufficiente fiducia in me stesso. Sapere che io sono disponibile e ho la capacità di proteggere me stesso e gli altri che amo è essenziale. Una volta che io conosco la mia aggressività, allora posso continuare il cammino interiore e quello che c'è sotto è uno strato ancora molto più profondo e molto più vasto che è la forza. E la forza è una qualità dell'essere, è una qualità che nella mappa dei Sufi della Taif si chiama l'essenza rossa ed è una qualità di fuoco, che è la forza interiore che dice io posso. Cioè è la capacità di sentire che io posso. Io posso qualunque cosa, posso vivere, posso camminare, posso riprodurmi, posso mangiare, posso fare ricerca interiore, posso cantare, posso ballare, posso viaggiare, cosa... Io posso e questa sensazione è una sensazione di vitalità dell'organismo. Quando io non posso, o se io sono convinto di non potere, la sensazione è contrazione, o per usare un termine più preciso, anche se non molto piacevole, è castrazione. Quindi la forza è un elemento fondamentale della vitalità e del modo in cui si manifesta la mia anima nella vita quotidiana. Nella sessualità, per esempio, io posso è fondamentale, perché tutta la fase orgasmica e pre-orgasmica si basa su questa qualità. Io sono in grado di essere presente, fare l'amore, condividere me stesso con un'altra persona, rischiare momento per momento e così via. Una vita senza io posso è una vita nella nebbia e fondamentalmente nella mediocrità. E questo è il contratto che noi abbiamo firmato, il contratto di mediocrità. Quando diciamo io posso, immediatamente ci sentiamo in colpa e lì ovviamente dobbiamo fare i conti con il nostro giudice. Allora la rabbia vissuta consapevolmente attraverso meditazioni, attraverso terapia, attraverso tecniche come la bioenergetica e così via, è una porta nell'aggressività e quindi dall'aggressività dentro la forza. Se noi blocchiamo quella porta, blocchiamo il nostro rapporto con la forza e quindi poi diventerà violenza, diventerà attacco verso gli altri e così via. Distorsione. Grazie. A te.